Il cosiddetto paradosso del gatto di Schrödinger è un esperimento mentale estremamente popolare nell'ambito della divulgazione della meccanica quantistica. Ideato nel 1935 dallo stesso Erwin Schrödinger, uno dei fondatori della meccanica quantistica, recita più o meno così. Supponiamo di avere un sistema in cui la vita di un gatto dipende da un certo processo subatomico governato dalle leggi della meccanica quantistica. Supponiamo in particolare che una misurazione possa avere solo due esiti possibili, che possiamo chiamare ad esempio 1 oppure 0, oppure sì e no, e così via. Abbiamo due risultati che vengono determinati al momento della misurazione stessa. Ora però immaginiamo che a questo dispositivo microscopico sia collegato un sistema che provoca l'avvelenamento del gatto se ad esempio misuriamo il risultato 1 associato al sistema quantistico, oppure il gatto avrà la vita salva se invece esce il risultato 0. A questo punto però sembra che abbiamo collegato in modo paradossale le leggi della meccanica quantistica, quindi quelle leggi probabilistiche e microscopiche, al nostro mondo macroscopico. Perché se noi non abbiamo alcun legame con l'interno del sistema che è costituito dall'esperimento quantistico più il gatto, allora noi da fuori non possiamo sapere se il gatto è vivo oppure morto. Ma visto che noi sappiamo anche che in meccanica quantistica l'esito di una misurazione è determinato al momento della misurazione stessa, finché noi non interagiamo con quel sistema, noi non possiamo dire che il gatto sia né vivo né morto. Diciamo che è in uno stato di sovrapposizione quantistica fra questi due stati, di essere vivo e di essere morto. Quando poi io effetto una misurazione, in questo caso banalmente osservando il sistema, quindi facendo in modo che l'informazione dal sistema arrivi a me o a qualsiasi altro apparato di misura, allora si determina se il gatto sia vivo oppure morto. Allora innanzitutto sottolineo che è un esperimento mentale, quindi nessuno ha mai messo un gatto all'interno di una scatola e ha mai fatto una roba del genere. Lo sottolineo perché non è raro che poi arrivi gente nei commenti a scrivere, ma come si fa a maltrattare i gatti così per la fisica? In base ai risultati di questo esperimento mentale ci troviamo di fronte a un vero e proprio paradosso, cioè la meccanica quantistica. Com'è possibile che a livello microscopico si basi su delle leggi che quando poi hanno delle ripercussioni sul mondo macroscopico diventano così assurde? Un'altra cosa che mi preme sottolineare e che ho già ribadito in un video passato è che nessuno, dopo averci ragionato sufficientemente su, è davvero convinto che il gatto sia vivo e morto contemporaneamente. È evidente che a un certo punto si passa dalle leggi quantistiche, che sono probabilistiche e che prevedono la vera e propria sovrapposizione quantistica, a un mondo che è quello che conosciamo, quello macroscopico costituito dagli oggetti che ci circondano, per il quale non vale più questa sovrapposizione e questo punto di vista profondamente probabilistico, se vogliamo casuale. A livello microscopico però la probabilità è davvero colei che governa i fenomeni. Questo è qualcosa che si può osservare sperimentalmente in modo quasi banale al giorno d'oggi. Io posso preparare un esperimento che riguardi ad esempio particelle che abbiano una massa oppure che non abbiano massa, come ad esempio i fotoni, e fare in modo che le particelle siano tutte perfettamente identiche fra di loro, però ogni volta che effettuo nuove misurazioni trovo risultati diversi. Ad esempio se io lancio un fotone attraverso due fenditure mi accorgo che sullo schermo che si trova al di là delle fenditure compariranno dei fotoni sempre in punti leggermente diversi fra di loro. Non riuscirò mai a far comparire il fotone nello stesso identico punto e se ci riesco diciamo che è qualcosa di molto improbabile. In generale se io lancio ad esempio un miliardo di fotoni mi accorgo che finiscono tutti in punti diversi e ognuno di quei punti viene determinato al momento della misurazione stessa. Io non potevo già sapere in anticipo dove sarebbe andato a finire quel fotone. Ma mi accorgo di una cosa ancora più strana, cioè io per nessuno di quei fotoni posso dire che sia passato solo attraverso la fenditura numero 1 o solo attraverso la fenditura numero 2. Io posso descrivere la figura di interferenza che osservo sullo schermo data dalla somma di tutti quei puntini in cui sono andati a finire i vari fotoni solo supponendo che ogni singolo fotone sia passato attraverso entrambe le fenditure contemporaneamente. Al giorno d'oggi per spiegare questi fenomeni noi diciamo che in realtà quel fotone mentre sta viaggiando nello spazio è rappresentato da una cosiddetta funzione d'onda che è una specie di onda di probabilità che si propaga e in questo caso l'onda di probabilità passa attraverso entrambe le fenditure. Quando quest'onda finisce sullo schermo fa materializzare il fotone in un punto ben preciso. E quando dico che fa materializzare il fotone non sto dicendo qualcosa di magico, sto solo dicendo che lo schermo funge da strumento di misura della posizione del fotone, posizione che prima della misurazione era completamente indeterminata anche se descritta comunque da una probabilità. Ebbene questo significa che prima della misurazione da parte dello schermo quel fotone si trovava in possibilmente tutti i punti contemporaneamente anche se ad alcune zone di spazio abbiamo associata una probabilità molto più elevata. In ogni caso prima di misurare la posizione del fotone io non so esattamente se si trovi ad esempio in un punto oppure in un altro punto, solo che in questo caso abbiamo infiniti punti possibili, quindi abbiamo infiniti esiti possibili. Esistono altri sistemi fisici molto più semplici in cui gli esiti possibili sono solamente due. Ad esempio se io ho uno specchio semiriflettente, detto anche beam splitter, cioè divisore di fasci, se io lancio un fotone contro un simile specchio posso avere o una trasmissione del fotone oppure una sua riflessione. Anche in questo caso io in realtà non posso dire dopo aver lanciato il fotone contro lo specchio semiriflettente che questo è completamente passato attraverso lo specchio oppure che è stato completamente riflesso. Quello che dovrò fare è inserire due rivelatori messi in modo che se il fotone passa attraverso lo specchio finisce ad esempio sul rivelatore 1 mentre se viene riflesso va a finire sul rivelatore 2 e a questo punto ripetendo più volte la prova posso vedere che ogni tanto il fotone andrà a finire sul rivelatore 1 e ogni tanto finirà sul rivelatore 2. C'è un piccolo dettaglio a cui fare attenzione perché se io vado a vedere che il fotone è andato a finire sul rivelatore 1 questo non significa che il fotone è stato completamente trasmesso. Significa semplicemente che la sua funzione d'onda si è sdoppiata, una parte è passata attraverso lo specchio semiriflettente l'altra invece è stata riflessa, la funzione d'onda sdoppiata è andata a finire su entrambi i rivelatori e a questo punto è avvenuta la misurazione e il fotone decide per così dire sempre per modo di dire di comparire sul rivelatore 1. Ma prima che la funzione d'onda sia finita su entrambi i rivelatori io non posso in nessun modo dire se il fotone sia stato trasmesso oppure riflesso. E questo si può facilmente provare sperimentalmente chiudendo il percorso e facciando in modo che poi quel fotone vada a finire di nuovo in un unico punto. Io posso osservare in questo caso dei fenomeni di interferenza del fotone con se stesso o se vogliamo di quella parte di funzione d'onda che è passata attraverso un ramo del mio circuito per fotoni con la parte di funzione d'onda che è finita nell'altro ramo. E di tutto questo ho già parlato in passato, vi lascio anche qui un video in descrizione. Tutta questa premessa semplicemente per dirvi che io in meccanica quantistica so che esiste la sovrapposizione fra fenomeni che da un punto di vista intuitivo e legato alla vita di tutti i giorni per me possono esistere solo singolarmente o in una possibilità o in un'altra ma non in una sovrapposizione di queste due o di più possibilità. Nel mondo quantistico invece le sovrapposizioni sono perfettamente possibili. Un fotone può trovarsi in tanti punti dello spazio contemporaneamente o meglio la sua funzione d'onda può trovarsi in tanti punti dello spazio contemporaneamente. Un fotone può passare attraverso percorsi diversi fra di loro sempre sotto forma di funzione d'onda ma quando io poi vado a effettuare la misurazione allora faccio collassare tutta quella funzione d'onda in un unico punto e misuro ad esempio la posizione di quella particella oppure la sua energia o altre grandezze caratteristiche. Adesso il problema però è come si passa da questo punto di vista di perfetta sovrapposizione che è verificabile sperimentalmente a una situazione macroscopica come quella legata ad esempio al gatto di Schrödinger. Tornando al nostro specchio semiriflettente supponiamo che se il fotone viene trasmesso quindi va a finire sul rivelatore 1 e viene misurato su quel rivelatore allora il gatto viene effettivamente avvelenato mentre se il fotone viene misurato sul rivelatore 2 e quindi noi a posteriori diciamo che è stato riflesso dallo specchio semiriflettente allora il gatto si salva. A questo punto se non esiste nessuno strumento di misura che è in grado di capire se il gatto si sia avvelenato o meno posso dire che prima di qualsiasi misurazione il gatto è in una sovrapposizione quantistica di avvelenato e non avvelenato così come posso tranquillamente dire che quel fotone prima di essere misurato da uno o due rivelatori è stato sia trasmesso sia riflesso contemporaneamente? La risposta in realtà è ben nota ed è no non si può dire questo perché in realtà dal momento in cui il fotone finisce sul rivelatore 1 al momento in cui il gatto viene a tutti gli effetti avvelenato succedono tantissimi altri processi in modo molto complesso cioè non è che il fotone finisce sul rivelatore 1 e istantaneamente il gatto risulta avvelenato. Il fotone andrà a finire lì ci sarà un fotomoltiplicatore che farà in modo che questa interazione fra il fotone e gli atomi del rivelatore venga amplificata produca nuovi effetti che a loro volta poi saranno collegati a un eventuale serbatoio che contiene il veleno che sarà già un oggetto macroscopico e in questi primissimi passaggi iniziali si va già a perdere tutta la natura quantistica dei fenomeni che sto descrivendo a un certo punto dopo pochissimi nanosecondi probabilmente non c'è più nulla di quantistico diventa tutto quanto classico e tutto questo a causa della cosiddetta decoerenza quantistica abbiamo già parlato tante volte del concetto di decoerenza quantistica si tratta di qualcosa che mi interessa molto e che è legato in un certo senso anche alla cosiddetta interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica anche qui trovate in descrizione tanti riferimenti a video passati a un certo punto la natura quantistica dei fenomeni stessi va a perdersi in questa decoerenza cioè le funzioni d'onda che descrivono perfettamente o quasi inizialmente le singole particelle perdono di coerenza è come se si creasse una sorta di continua interferenza con l'ambiente circostante che fa in modo che a un certo punto ci sia troppo rumore e si mischi l'informazione legata a questi oggetti quantistici con tutte le altre informazioni riguardanti appunto l'ambiente quindi altri atomi altre molecole altri campi presenti questo però ci fa anche capire che in realtà il concetto di paradosso del gatto di schrodinger non è un concetto completamente alieno e che non ha utilità pratica lo è finché noi ci limitiamo a parlare di gatti veri ma in realtà al giorno d'oggi nella meccanica quantistica contemporanea il termine gatto di schrodinger ha un significato un po più preciso anche a livello tecnico infatti uno stato quantistico di gatto di schrodinger è un qualsiasi stato che presenti chiaramente una sovrapposizione fra due ad esempio stati quantistici che possano essere anche macroscopici e quando parlo di sistemi macroscopici non mi riferisco ovviamente a veri e propri oggetti estesi che possiamo prendere in mano ma comunque a sistemi costituiti anche da un numero molto elevato di particelle quando poco fa vi ho detto che la decoerenza quantistica avviene molto rapidamente pochissimi nanosecondi dopo che il fotone è andato a colpire il rivelatore numero 1 ad esempio la cosa risultava problematica perché un simile tempo di decoerenza così breve è sostanzialmente nullo rispetto al tempo complessivo con cui io genero l'eventuale stato di gatto avvelenato ma se io riuscissi ad andare ad analizzare il mio stato finale molto rapidamente ancora più rapidamente rispetto a quanto rapidamente avvenga la decoerenza quantistica io potrei effettivamente avere una sovrapposizione fra stati macroscopici comunque riguardanti appunto oggetti veri e propri non solo singole particelle e a livello sperimentale è stato provato più volte che è possibile generare questi che sono detti anche gattini di schrodinger cioè piccoli oggettini o dispositivi che si comportano come appunto dei gatti di schrodinger cioè che si trovano in una sovrapposizione quantistica fra due stati diversi ad esempio in questo articolo che è stato pubblicato il 13 novembre di quest'anno è stato dimostrato che si può realizzare sperimentalmente un sistema costituito da un superconduttore e da un materiale ferromagnetico che siano correlati fra di loro e questo sistema correlato che è detto anche entangled può trovarsi in una sovrapposizione quantistica fra due stati macroscopici e se noi pensiamo che lo stato 1 corrisponda al gatto avvelenato e lo stato 2 corrisponde invece al gatto sano si può proprio vedere che abbiamo un sistema macroscopico che vive in una sovrapposizione fra questi due stati e vive in questo stato abbastanza a lungo perché la decoerenza non sia ancora avvenuta prima di osservare appunto questi effetti di sovrapposizione chiaramente poi aspettando abbastanza tempo la decoerenza prevale e il sistema smette di essere in questa perfetta sovrapposizione fra stati macroscopici le simulazioni però hanno mostrato che è possibile generare questa sovrapposizione fra stati macroscopici quindi è possibile generare questo vero e proprio stato di gatto di schrodinger in un tempo brevissimo di qualche nanosecondo mentre invece la decoerenza quantistica ha bisogno di molto più tempo poi per prevalere quindi oggi nel 2024 anche se in realtà questa cosa si sa già da almeno una decina d'anni noi sappiamo che possiamo realizzare dei sistemi che a tutti gli effetti si comportano come il gatto di schrodinger cioè dei sistemi che non si trovano in uno stato ben preciso ma in una sovrapposizione di almeno due stati radicalmente diversi e attenzione perché in realtà la decoerenza quella che poi fa perdere questo bellissimo stato di sovrapposizione è qualcosa che fa perdere le informazioni a noi ma questo non significa che in realtà dopo non ci siano altri fenomeni di sovrapposizione molto interessanti di questo tipo semplicemente noi non siamo in grado poi di misurarli di osservarli direttamente gli esperimenti che vi ho descritto però su questi gattini di schrodinger ci permettono di osservare che davvero esiste la sovrapposizione quantistica anche a livello macroscopico quindi non è solo così una specie di giochino matematico che noi introduciamo per spiegare fenomeni che comunque non possiamo osservare come quelli legati a fotoni o particelle elementari noi possiamo realizzare dei dispositivi anche meccanici che rispettino questa sovrapposizione quantistica e quindi possiamo piano piano pensare che in futuro potranno esistere dei sistemi che hanno due configurazioni contemporaneamente che si trovano proprio in sovrapposizione fra due identità fra due nature che per noi a livello intuitivo dovevano escludersi a vicenda naturalmente c'è sempre una parte di pubblico che è curiosa anche di sapere se risultati come questo possano avere poi degli impatti sulla quotidianità e la risposta è sì sicuramente quando poi verranno implementate a livello tecnologico avremo la possibilità poi di applicare questi risultati in futuro ad esempio al quantum computing oppure ad altri ambiti che al giorno d'oggi forse sono poco prevedibili però quando tutti i giorni riusciremo a sfruttare fenomeni di questo tipo allora diremo ah ma quindi serviva davvero sta roba che poi sostanzialmente quello che facciamo oggi quando utilizziamo la fisica a semiconduttore quando usiamo i led quando usiamo i transistor in tutti i dispositivi che abbiamo in tasca però il problema è sempre questo che quando poi la tecnologia viene implementata nella quotidianità ci si dimentica tutti questi bellissimi lavori che sono stati fatti per decenni da persone che poi diventano completamente ignote che però poi hanno reso possibile tutto ciò come sempre vi ringrazio per aver guardato se avete domande scrivete un commento iscrivetevi al canale se vi interessano contenuti di questo tipo e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao